Una cosa fondamentale, fatemi fare una sintesi, non c'è bisogno perché Gomez l'avete capito tutti. Uno, lo dico più esplicitamente di Gomez, c'è qualcuno che ci guadagna, non facciamo troppo i complettisti, ma quei mercantili, quelli che facciano attività commerciale in quella parte del Mediterraneo che adesso non devono più raccogliere i disperati per mare. Due, due, attenzione, guardiamo le ONG, potrà esserci qualche casino, ma il problema resta. Salvini, questa seconda obiezione è la più forte, cioè noi facciamo trasmissioni su trasmissioni, ma non è che poi se mettiamo queste ONG le togliamo dalle acque libiche abbiamo risolto il problema. Ma io me la prendo con i governi, con la politica, con l'Europa, non con le ONG che o per business o per principio personale fanno quello che fanno. Le aggiungo il numero, le prime tre per chi ci guarda da casa, perché poi bisogna essere precisi, sono sbarcate 43 mila persone. Le prime tre nazionalità di sbarco nel 2017, perché uno dice, vediamo, la Siria, l'Iraq, la Libia, no, sono Bangladesh, Nigeria e Guinea. Sapete quante domande sono state accolte al momento di cittadini del Bangladesh, della Nigeria e della Guinea che hanno detto sono un rifugiato politico fino al 21 aprile di quest'anno? Allora, Nigeria 4%, Guinea 2%, Bangladesh 2%, perché non risultano guerre in Bangladesh e nelle altre zone. Quindi, ah, non stiamo accogliendo persone che scappano dalla guerra, mi dicono stiamo accogliendo persone che hanno fame. Bene, parte il fatto che ci sono 7 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, che hanno fame sul pianerotto lì in casa nostra. Però, per rispondere a lei e per rispondere a Peter, pensiamo di risolvere il problema svuotando mezza Africa e smistandola negli alberghi in Italia, tenendoli lì per un anno e mezzo, o non sarebbero meglio spesi questi miliardi di euro mandando del cibo, dei medici e scavando dei pozzi d'acqua in Africa? Mi faccio girare questa sua affermazione a Bonacina, direttore di Vita. Però, abbiamo fatto un passo avanti, direttore, rispetto all'ultima volta. Ritorneremo con Ruotolo poi a parlare delle ONG. Però la domanda che fa Salvini è legittima. Se spendiamo 5 miliardi in Italia, lui è insomma altri 5 miliardi che spendono per il traffico in Africa, non conviene, è una cosa che ho sentito spesso, però lei come risponde a questa obiezione di Salvini? Ma intanto, diciamo, rilevo una cosa, che in questi 15 giorni di grande scandalo delle ONG, parliamo di 8 ONG e di 13 barche, tanto per, dico anche a Salvini, che quest'anno, diciamo, le ONG hanno soccorso su 46 mila persone e 7.632, poi c'è la Guardia Costiera, c'è la Marina Militare, c'è Frontex, è un'av4med, Marine Estere, Guardia di Finanza e persino Carabinieri, che salvano le persone in mare, viva Dio, perché ne continuano a morire e sono oramai, diciamo, più di 1300, tra cui 250 bambini in questi 4 mesi. Allora, intanto rilevo che oggi addirittura Zucchero ha detto la mia è solo un'ipotesi di lavoro, intanto ho gettato fango dicendo cose pazzesche, le ONG destabilizzano l'economia italiana, le ONG hanno i soldi ai trafficanti, adesso vedo che stiamo parlando dei mercantili, cioè si sta spostando e non c'è una notizia di reato, neppure un avviso di garanzia. Quindi trovo tutta questa panna uno scandalo pazzesco. È veramente oscena questa campagna di stampa e della politica e di un politico che è stato il governo, che sta all'Unione Europea e non fa una proposta. Non è possibile, cazzo! Eh, 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 buona scena, buona scena. Lo trovo vergognoso. Ma come ce l'ha il signore educato che avete un collegamento? No, ma buona scena. Sì, Salvini, scusa, scusa, ma mi fai veramente arrabbiare. Quindi il problema sono io che sono all'opposizione. No, nel 2008 arrivavano ancora più i migrati di oggi. Eh, nel 2008, ai tempi di mia nonna, sì, va bene, perfetto. No, stavate al governo, voglio dire. Siamo nel 2017, lei come lo risolve il problema? Io le ho fatto una proposta. Bisogna risolvere il problema. Io ho fatto la mia proposta, qual è la sua? No, fai tu la politica, io faccio informazione. No, io l'ho fatta la proposta. Qual è la tua proposta? Ma te l'ho detto, spostare la frontiera in Nord Africa, non farne sbarcare, morire, partire più, neanche uno. Perché più ne partono, più ne muoiono. È utile spendere i soldi in Africa, è inutile spendere i soldi in Italia. Salvini, scusa, ti do un'altra notizia. Siccome è giusto uno slogan che mi sembra sia nato da voi, aiutiamoli a casa loro, che è uno slogan giusto, sto dicendo con uno slogan giusto, ti voglio dire che le ONG italiane mobilitano più di 600 milioni di euro in Africa, hanno 3.000 progetti e programmi, hanno 16.000 operatori, 82.000 volontari, 341.000 donatori privati. Sono quelli che stanno aiutando di più. Diamogli 4 miliardi invece che spenderli per metterli in albergo a Bormio, in Sicilia o negli agriturismi in Sardegna. Diamoli in Africa, tutti 4 miliardi.